lifty e max, i robot e lea vanno al parco giochi tutti insieme andiamo! giochiamo insieme con le macchinine, la ruota, il motore, il cofano e il camioncino leo che gioca con noi al parco giochi con leo ciao vi ricordate bambini? questa è la casa dei robot robot rosso ti sei fatto male? sembra di no ha una valigia dei pattini un cappello natalizio ma dove sta andando? ciao robot siete in partenza ciao robot viola anche tu hai i pattini e una valigia il robot blu ha anche una racchetta e un ombre il robot rosso sta mettendo fretta le valigie non sono ancora pronte i pattini la racchetta l'ombrello si capisce dove stiano andando oh oh il frigorifero sta arrivando un aereo al vicino aeroporto il robot rosso vuole che vi sbrigliate finalmente e ora le valigie in macchina siamo all'aeroporto quindi gli amici robot vogliono prendere l'aereo aiaiai la scaletta di barco si sta allontanando aereo rosso sei autorizzato al decollo e lea il controllore inizia il decollo ehi il pulmino dei robot troppo tardi avete perso questo volo eh già cos'è successo? troppo tempo per preparare le valigie ma non disperatevi aspettate un po' e vi imbarcherete sul prossimo volo oh ma qui fa freddo non c'è alcun edificio serve una sala d'attesa ciao robot abbiamo bisogno del vostro aiuto sono qua venite le fondamenta sono pronte i robot hanno freddo ma non sembra che vogliano dare una mano prometto che potrete stare al caldo evviva daremo tutti una mano quanti pezzi sarà divertente assemblarli con la potente gru pilotata dal robot viola ecco le parti la prima parete è pronta e ora tutte le altre pareti gialle rossi insomma sono delle finestre questo grande arco sarà l'ingresso dell'aeroporto una grande vetrata impedirà al freddo di entrare un piccolo bar tavoli e poltroncine proprio di fronte al tabellone delle partenze non dimentichiamo il tetto l'arcata centrale e l'aeroporto è pronto guardate bambini Lifty ha trovato un biglietto devo cercare chi lo ha perso volete dei biscotti? grazie per favore anche un po' di latte tutti al caldo nel bar dell'aeroporto altri biscotti? cercate di non perdere anche il prossimo aereo il latte è bollente aereo rosso sei autorizzato all'atterrazzo attenzione tutti i passeggeri sono attesi all'imbarco i robot non hanno fretta di prendere l'aereo ehi voi state perdendo l'aereo è ora di andare avanti muovetevi il tuo biglietto per favore grazie biglietto prego grazie biglietto prego ogni passeggero deve avere un biglietto il robot blu non lo trova fa l'indifferente e cerca di passare no niente biglietto niente volo allora il biglietto che ho trovato è il suo evviva prego buon volo hanno perso uno sci ma non il volo buone vacanze per poco ma questa volta ce l'hanno fatta già anche senza uno sci sono sicuro che si divertiranno moltissimo biscatti con gocce di cioccolato bambini a presto